Il project financing presentato qualche mese fa torna in un cassetto e per la gestione dello stadio Garilli si fa sempre più probabile la pubblicazione di un bando ordinario che preveda un canone molto basso attorno ai 1000 euro e un periodo non superiore ai 5 anni di durata. Il comune e il Piacenza Calcio hanno infatti concordato sul fatto che in questo periodo non è il caso di imbarcarsi nell'ambizioso e oneroso project financing che la società di Viagorra aveva presentato a Palazzo Mercanti per la manutenzione e gestione dello stadio per 9 anni. Tutte le parti interessate hanno quindi concordato con grande serenità di chiudere la conferenza dei servizi aperta nei mesi scorsi. Cosa succederà quindi adesso? Studieremo la soluzione migliore per tutti, di sicuro non lasceremo il Piacenza Calcio senza stadio, ha chiarito l'assessore comunale allo sport Giorgio Cisini. Innanzitutto va ricordato come la società dei fratelli Gatti nell'agosto 2016 abbia ottenuto dal comune la proroga di un anno per la concessione in uso e la gestione dello stadio Garilli. L'accordo durerà fino al 30 giugno 2017 con le stesse modalità degli anni passati. Canone simbolico di 100 euro all'anno visto che alla società restano in capo tutti i costi gestionali e di manutenzione ordinaria che pare ammontino addirittura 300.000 euro all'anno.